1-1, mi aveva parlato di scontro salvezza, era importante anche dimostrare, dopo qualche passo falso che la squadra ci fosse, l'ha dimostrato. È un 1-1 che sta più stretto o un punto guadagnato? Sicuramente volevamo vincere, avevamo preparata per vincere, sapendo che poi loro erano dietro un po' di punti, quindi buttarli ancora più dietro sarebbe stato perfetto. Quindi non siamo contenti dell'1-1 e non siamo contenti di come abbiamo giocato, al di là del risultato. Troppi errori, abbiamo preso un gol che prendiamo spesso, quindi continuiamo a fare sempre gli stessi errori, quindi se devo vedere il bicchiere sicuramente è mezzo vuoto. La squadra che ha aggredito la partita, abbiamo visto tanta pressione soprattutto nei primi minuti, tanti recuperi alti, poi si è un po' spenta nel corso della partita. Probabilmente la fretta di vorrei subito riandare avanti dopo l'1-1 ci ha portato a commettere troppi errori tecnici, a concedere troppe ripartenze, eravamo troppo alti. In mezzo al campo concedevamo troppo spazio, lo spazio che c'era tra la difesa e il centrocampo era veramente enorme e si è stati fortunati anche in alcune occasioni perché loro sono ripartiti bene. Poi non siamo più riusciti a metterla sul piano nostro perché comunque siamo una squadra con tecnica e se la mettiamo sul piano dell'aggressività facciamo un po' più fatica di alcune squadre. Mister, 1-1 era uno scontro in cui c'era anche qualcosa da dimostrare, il gruppo c'è, qualche palo, qualche traversa, anche qualche rimpianto visto il finale. Vabbè sicuramente due pali e una traversa è dura da accettare, però la squadra c'è, la squadra ha sofferto insieme quando c'era a soffrire, ha creato un sacco di palle gol che è una cosa che ci è mancata tanto ultimamente. Abbiamo fuori ancora tanta gente che speriamo di recuperare nel più breve tempo possibile, però ho visto la squadra viva quindi sono contento. È una squadra che è cresciuta anche molto all'interno proprio della partita, ha sofferto magari nei primi minuti, poi è cresciuta a tante occasioni del primo tempo e le più importanti del secondo. Sì, 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 abbiamo sofferto all'inizio, un po' più paura, comunque è una squadra che è vero che ha dentro gente di tanta esperienza, però anche tanti giovani comunque non hanno mai fatto la categoria eccetera, quindi sicuramente ha sofferto all'inizio, poteva essere più lucida, potevamo trovare più uscite pulite, però ci sta, fa parte di un percorso che noi abbiamo un po' bloccato, perché purtroppo quando chiaramente i risultati non arrivano si fa fatica a venire fiducia, è normale. Questa gara forse vi faccio, ciao. Grazie. 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 Grazie.